I compagni sono bravissimi, un gruppo perfetto, sono arrivato qui, zero problemi sotto quell'aspetto, mi hanno accolto anche bene. Ovviamente spero e penso che dovremo salvarci, perché comunque anche per me può essere una vetrina. Se io vado in una squadra, gioco bene, però retrocediamo, ha un peso. Se invece gioco bene in una squadra e ci salviamo, ha un altro peso. Quindi anche per me salvarsi sarebbe perfetto. Ad Ascoli abbiamo perso, però sotto l'aspetto del gioco li abbiamo ammazzati. Loro non hanno visto palla tutta la partita, però adesso ovviamente quello che conta non è giocare bene, ma è vincere le partite anche 1-0. Adesso ci proveremo, speriamo che la fortuna stavolta sia dalla nostra parte. Vedendo anche gli anni passati ho visto che molti giovani sono passati da qui e sono diventati degli ottimi giocatori, come tipo Buckel, perché adesso lo conosco. Pavoletti. Poi anche Cerri, so che era qui, quindi... Porta fortuna anche. Porta fortuna anche. Sì, portare anche fortuna. Vabbè, comunque è una società che crede nei giovani, quindi penso che se uno deve uscire da una primavera e andare in una società a provare a diventare un giocatore serio, secondo me il Lanciano è una buona piazza. A presto. Grazie.